buongiorno allora volevo fare una prova di quello che sta succedendo in america secondo google allora se io cerco sudden death usa che significa morte improvvisa negli stati uniti allora devo scegliere un periodo chiaramente scelgo un periodo vado su strumenti tools e strumenti scelgo un periodo ecco qua custom range facciamo da maggio dell'anno scorso ok maggio dell'anno scorso il primo maggio dell'anno scorso fino a settembre 21 perché oggi è settembre 21 un attimo che ho accorso troppo eccolo qui oggi è il 21 settembre però questo è l'anno scorso ok questo è l'anno scorso primo maggio 2020 21 settembre 2020 sudden death usa tools devo ricliccare su tools e mi dà un numero eccolo qui 254.000 in questi mesi ok maggio giugno luglio agosto e settembre maggio giugno luglio agosto e settembre sono cinque mesi ok 254.000 adesso riclicchiamo su tools e cambiamo il periodo con quello di quest'anno quello di quest'anno allora maggio 2021 settembre oggi il 21 settembre eccolo qua oggi è il 21 infatti il 22 non me lo fa scegliere quindi go rivediamo il periodo primo maggio 2021 21 settembre 2021 sudden death USA tools clicchiamo su tools e io non riesco a credere a questo numero 7.160.000 nei cinque mesi di quest'anno cosa c'è in questi cinque mesi che non c'era l'anno scorso 7.160.000 che incremento di un percentuale è questo numero incredibile è un genocidio ragazzi è un genocidio